Allora, due anni fa Cosperati non è mai venuto un idiota ma salutato l'altranno in commissione come nel mondo quando si parlava di bambini morti, licenziati, guerre, manicomi, scuola scena, lo sapete ignoranti, discordati e Cosperati non è mai venuto un coglione in commissione, mi stanno dando ragione, però diciamo di poterlo, ma anche i tuoi lì, i blocchi indefarenti, attastanti, vestanti, il mondo è preso, vanno a votare per il sinistra non sanno la mano di politica, basta informarsi, perché Polonia è stata con me, non saprà tutti i gendarmi, gli eserci, l'ho premato, il capitano che era un medico, l'ha portato, ne si fatta a portare queste cose e ne sattura, sperimenti, non ne avevo seguito Abbiamo internet, sei ignoranti, italiani stranieri Allora, finisco i bambini, allora, e anche il mio ramico, sapete che voglio spiegare che c'ha già dubbato, un miliardo e due morti e resi malati mentali e più del resto, il calcolo, il dottore mondiale ha detto mesi, secoli, mesi fa, e c'è il filosofo, il dottore c'è Allora, i dati mondiali internet, prima le tante ingrese, poi l'italiano e le prosciotti, bambini interattivi, ma mi troverete e il vestito mondial, il dottor, il filosofi, qualche senatore mondiale che denuncia, guerri, secoli, secoli, eccetera e guardate anche, chimica, agricoltura, libri, parma, sintetizzato, sanitario, neurologia, psichiatria, psicologia la più grossa porcata mondiale, come dottori mondiali ha detto del campo il toma di bambini, il riconosci, il dirente, eccetera, eccetera non parliamo tre ore, non lo sapete e ignoranti, i morti sul lavoro il convegno a Bologna, Italia e l'Italia, la metà, i lunedì, vanno e il matto, il ripreso, il territorio, il territorio, l'italiano, il territorio, ma dai si scrive alla ragazza iente un uomo dorzo diventi invenuti, in fresca, presa depressione, halausi sui relativci nei bambini ci spettac més, morto, depressione, psicologia, eccetera ignoranti, lo dicevo e si è nei casi gravissime, se muovo e mondo I danni li stanno facendo l'elettroshop in Italia, a Vila Barossiano, non ho parlato neanche anni fa, c'è il coro di amministrazione, il mondo non è solo, lo sapete, l'antica Vila Barossiano fosse il coro di un chilometro e due, è convenzionata, dovrebbe essere anche l'ingegno in Italia, la famosa stessa, c'è la via, la merca impresa, del tutto, il vecchio enorme, il vecchio stessuto, il coro di danni, il vecchio grido qualche volta, nel mondo c'è il cittadino.